Adesso vorrei presentare un grande maestro, un grande maestro, Ciro Lanti. Applausi. Buonasera maestro. Adesso si prepara un attimo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Allora io ce l'ho fatta. Finalmente, questa serata che era tanto attesa, ce l'ho fatta. Grazie a tutti quanti voi. Un bel applauso. Grazie a tutti quanti voi. Grazie agli amici, ai parenti e alla mia famiglia. Mia moglie dove sta sta lì? Io non mi emozionerò perché l'emozione per me è già incallita. Sono più di 30 anni ma questo ritorno che cos'è? Stasera non andiamo per niente bene. Va bene. Comunque, grazie a tutti quanti. Maria, grazie, dopo ci saranno. Facciamo un bel applauso a tutti voi. Grazie, grazie di essere qui. Va bene, iniziamo con qualche canzone e poi dopo vi dirò qualcosa inerente alla serata. Facciamo un bel applauso a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.